E' veramente come se vuole giusto esprimere con il canno la risultanza dello Spirito, e inneggiare al Dio visibile Padre Onipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adà, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui ha ucciso il vero Agnetto, e con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte, in cui hai liberato i figli di Israele, i nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare attraverso il Marco Rosso. Questa è la notte, in cui hai vinto le tenebre del peccato, con lo splendore della colonna di fuoco.